Ciao a tutti, bentornati nel video, spero che l'inquadratura vada bene ma comunque nel corso del video l'andrò ad aggiustare e oggi volevo unboxare questo piccolo set Tinkerbell Micro Play Set quindi un piccolo play set della collezione Animators Collection Lidols di Trilly per l'appunto a me piace tantissimo Trilly, ho vari oggetti di Trilly e anche l'Animator gigante e nulla, questa qui è la confezione sempre con dei disegni estremamente carini naturalmente è stata acquistata al Disney Store e qui dietro avete un'anteprima di quelli che saranno poi tutti gli oggettini che potrete andare a trovare all'interno della box posso interrompere un attimo che peraltro non più di una settimana fa avevo visto che entretutto questi set erano anche in offerta ok, ogni tanto periodicamente vengono messi in offerta e in realtà quindi non conviene mai prenderli a pezzo pieno anche se ultimamente vedo che ci sono meno offerte dal Disney Store rispetto a prima, non so come mai ma vabbè e nulla, adesso la deboxo, cambio inquadratura così vedete tutto meglio eccoci qui, abbiamo per l'appunto deboxato il tutto ok, vedete qua dietro che tra l'altro ci sarà tipo una blind bag o qualcosa del genere e niente, iniziamo per l'appunto dal primo oggetto che mi verrà passato dalla mia collaboratrice il primo oggetto ovviamente è quello più grande, nella fattispecie è questa bellissima casetta che è la casetta di Trilli, vedete che è ricchissima di dettagli qui per esempio abbiamo la presenza di un bellissimo fiorellino, adoro qui abbiamo delle finestrelle circolari fatte in legno e qui tutto ovviamente una serie di fogliame con dei piccoli glitter che vanno a costituire il tetto della casetta stessa per quanto riguarda la porta d'entrata, la porta d'ingresso è secondo me, almeno a me sembra quello poi correggetemi se sbaglio, la parte rialzata, diciamo la parte sovrastante di una zucca qui ci sono tipo delle conchigliette, qui qualcosa che mi ricorda di funghetti è fatta veramente molto bene, ho altre casette di questo tipo, di altri personaggi naturalmente e questa casetta però devo dire che è veramente adorabile la parte posteriore ovviamente è più semplice quindi semplicemente una sorta di edera rampicante che va verso la sommità ovviamente vedete che si chiudono e questo è l'interno a differenza di altre casette questa qui non ha effetti sonori o cose varie qui c'è una foglia, guardate poi il pattern praticamente del pavimento che ricorda i cerchi di un albero dopodiché abbiamo una serie di sticker all'interno che vanno a costituire una sorta di arredamento e qui c'è un pezzo che si è staccato non so bene da che cosa speriamo che non sia nulla che si sia rotto spero di no, non riesco veramente a capire da che cosa si sia staccato va bene, chiudersi però si chiude ok, quello è l'importante va bene ok, quindi questa qui è la casettina se sentite il rumore i molesti sta estraendo i personaggi oggi fa l'operaio esatto poi abbiamo ovviamente lei vorrei ben vedere se non l'avessero messa quindi la nostra piccola trilli vedete che qui è in una versione definiamola baby quindi una sorta di bambina le ali sono tutte glitterate anche il vestito presenta una serie di glitter molto carini e ovviamente l'immancabile ciuffetto raccolto quindi qui vedete una sorta di coda di cavallo ma guardate quanto è bella io la adoro bellissima e la andiamo a mettere vicino alla casetta adoro anche gli oggettini sì, gli oggetti sono veramente belli e sembrano proprio uscire da un mondo fatato del resto poi abbiamo qui un piccolo fiorellino vedete che è tutto glitterato che si va ad innalzare da questo funghetto deliziosa come idea il funghetto, e devo dire che sono degli oggetti piuttosto curati io che sono diciamo esperta nell'ambito posso dire che sono degli oggettini abbastanza curati molto carino lo andiamo a posizionare qua vicino che caina cosa c'è scritto? Fairy Dust beh ovviamente la polvere di fatta spero che si riesca a vedere in qualche modo perché ci sono tutta una serie di riflessi che ahimè rendono difficoltosa l'operazione c'è scritto per l'appunto polvere di fata ecco qua ed è una sorta di ampolla anch'essa naturalmente super glitterata super sprelluccicosa ma neanche a dirlo ma guarda che carini credo gli sgabellini gli sgabellini sono deliziosi guardate hanno questa forma che ricalca praticamente un bottoncino e qui sembra che ci sia del filo quindi una sorta di bottoncino sono veramente carini e sono piccini quindi sono ancora più cute kawaii e teneri e li andiamo a mettere qua vedete che sono due naturalmente nel caso in cui Trilli abbia degli ospiti possiamo almeno accoglierli come si deve nel caso in cui ci siano degli ospiti e vogliono sorseggiare qualcosa abbiamo anche ovviamente una splendida teiera guardate quanto è carina cioè voi non capite per me che sono collezionista queste cose sono veramente la fine del mondo impazzisco divento pazza carinissima anche questa super dettagliata perfetta e per noi che amiamo certe cose i pezzi forti stanno ancora per arrivare esatto qui abbiamo un orologino sì eccolo qua lo faccio vedere subito questo orologino guardate che carino con tutti i numeri romani dolcissimi cioè dolcissimi molto carino cioè sono cose talmente piccole che sono così cute perché io non riesco a farvi capire magari la proporzione tra le mie mani che sono piccole e questi oggettini cioè adoro 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 poi la cosa divertente che hanno messo anche questi questi stencil di carta non saprei come definirli con dei fiorellini per creare ovviamente un ambiente ulteriore un'ambientazione alla casetta stessa ok sono riuscita a metterli in piedi e adesso arrivano alcuni dei pezzi forti secondo me dei pezzi da 90 abbiamo questo che è tutto super glitterato per cui se vedete delle imperfezioni quelle che sembrano in camera delle imperfezioni in realtà sono dei glitter e sono ovviamente animaletti della foresta amici di Trilli manco a dire guardate che carino e che faccino adorabile guardate dal più brutto al più bello ma lo sai che non so decidere quindi prendi te oh mamma mia quanto è bella guardate una coccinellina oddio sembra tipo follettina guardate effettivamente mi ricordo un po' folli e vabbè e qui c'è appunto questa coccinellina ok carina questi qui sono abbastanza grandi devo dire come pezzi rispetto tipo a Trilli anche proprio sì effettivamente sembrano più grandi di Trilli forse vabbè che Trilli è una fatina però insomma ecco qua bello poi abbiamo un piccolo uccellino anche lui glitterino lo sapevo che te devi per ultimo un piccolo roditore ah non l'avevo visto in verità eccolo qua super dettagliato tra l'altro adoro dopodiché aiuto non sta in piedi si sta in piedi perfetto e poi abbiamo il roditore guardate tenerissimo le zampine oh quanto è bello mi piace tantissimo come al solito l'otto con la messa a fuoco eccolo qui guardate che carino anche lui abbastanza grandicello devo dire e lo andiamo a mettere e per ultimo per ultimo naturalmente c'è sempre la sorpresa speciale non vogliamo uno di capello ecco perché se voi ci seguite dagli albori quindi dai nostri primi video saprete che noi abbiamo iniziato a fare i video appunto disney con il calendario dell'avvento animators e avevamo un po' questa sfortuna nel trovare inizialmente soltanto degli oggetti osceni come degli sgavellini e cose simili quindi speriamo vivamente di non trovare un oggetto del tipo perché se no veramente va a finire male e questa qui appunto è una blind bag che era contenuta già all'interno del set era già un po' adesionato dove si attaccava alla confezione ho capito ovviamente no manca a dirlo puoi di rovinarmi lo smalto provvediamo a tagliare il tutto con le forbici via una bella sforbiciata aggiustiamo una cosa chi sarà cosa pensate che sia Peter Pan si che felicità devo essere sincera guardate aspettate che come al solito problemi di messa a fuoco ne abbiamo eccolo qui Peter con tipo sopracciglioni caratteristici del personaggio se vi ricordate Trilly era gelosissima tra l'altro di Peter Pan eccolo qua che peraltro è praticamente grande come la cucina esatto c'è qualcun altro che non cosa e andiamo a mettere ovviamente Trilly vicina al suo Peter eccoli qua guardate quanto sono carini veramente questi set se avete dei bambini oppure se siete dei collezionisti come me vi riserveranno sempre tantissime gioie perché comunque ci sono tanti personaggi all'interno tutti carinissimi e e niente la tentazione di comprarli è sempre molto molto elevata mentre tu arredi diciamo che si poteva aggiungere se siete bambini se avete bambini o se avete il cuore ancora da bambino di un bambino esatto che è la cosa più importante non cioè mantenere un cuore giovane ecco e nulla adesso magari vi faccio vedere un po' come stanno tutti assieme vicini ecco qui ovviamente ho messo tutti i personaggini così un pochino vicini per farvi capire quanto il set sia carino e comunque sia bello completo in realtà mi avvicino ancora un attimino così vedete meglio qui ho messo peter con aiuto scusate qui ho messo peter qui trelli qui il set per il tè nel frattempo il cellulare mi si sta scaricando qui tutti gli altri personaggini e nulla il saluto più veloce di sempre ciao a tutti ciao